Da sempre, nella formazione degli operatori della finanza, e non dei risparmiatori, viene dato un giusto peso alle nozioni economiche e finanziarie che concorrono alla formazione dei prodotti che vengono collocati. Negli ultimi anni, però, una serie di studi ha messo in luce quella che potremmo chiamare finanza ingenua o, più tradizionalmente, finanza comportamentale. Si tratta, in sostanza, dell'analisi sia dei modelli mentali con cui i profani si rappresentano il rischio connesso agli investimenti, sia delle motivazioni che guidano le decisioni in questi ambiti, sia infine dell'esame dei loro comportamenti effettivi. Il termine finanza comportamentale sottolinea, per ragioni retoriche, soltanto questo ultimo aspetto. Tuttavia i comportamenti dei risparmiatori non sono casuali o irrazionali. Sono sistematici e sono guidati dalle loro procedure cognitive. Sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Il controllo dei costi dovrebbe essere al centro della tua strategia di investimento. Scopri di più il lavoro degli studiosi di psicoeconomia ha evidenziato come le modalità quotidiane di presa di decisione e le emozioni. Così innescate possano sfociare in quelle che potremmo definire trappole cognitive o tunnel, una volta che un problema è stato impostato in un certo modo è difficile sfuggire, sul piano comportamentale, ha una serie di conseguenze. È bene sapere però che i bancari, gestori e management, sono consapevoli del formarsi di tali conseguenze per sfruttarle e non per impostare meglio un dialogo e mantenere una relazione sana e trasparente con il cliente. La consapevolezza di questo stato di cose sta emergendo presso coloro che, pur non essendo psicologi cognitivi, si dedicano allo studio delle decisioni e dei comportamenti dei profani sui mercati. In questo periodo estivo-feriale la sezione guide e la collana di ebook finanza in pillole del blog Monifarm, potranno tenervi compagnia aiutandovi a capire meglio il mondo degli investimenti finanziari, gli argomenti più rilevanti, dal punto di vista delle applicazioni e della finanza comportamentale. Andrea Beltratti professore alla Bocconi anni fa ha sottolineato giustamente come alcuni risultati di questa disciplina siano sorprendenti. 2. La descrizione delle caratteristiche delle scelte degli investitori è a volte sorprendente. Mostra ad esempio che la scelta di allogazione di portafoglio di un sottoscrittore a un piano pensionistico è influenzata dalle modalità di offerta. Se il prodotto comprende la scelta tra due fondi azionari e due fondi obbligazionari la scelta finale prevalente sarà un investimento del 50% in titoli azionari. Ma se il prodotto comprende tre fondi azionari ed uno obbligazionario, la scelta finale sarà probabilmente un investimento del 75%. In titoli azionari, cercheremo quindi di spiegare la natura locale di tali scelte, determinata sia dall'influenza di fattori contingenti, sia dalla forza di meccanismi cognitivi che ci rendono schiavi degli specifici contesti in cui ci troviamo a decidere. Sempre in linea con questo modo di pensare locale, Beltratti ricorda che, altre analisi mostrano che le persone tendono a dare troppo peso alle singole notizie, senza porle in contesti più ampi, oppure che gli investitori odiano vendere i titoli in perdita. L'elenco è lungo, si tratta di elementi che suscitano interrogativi, ma che, allo stesso tempo, ci aiutano a comprendere le possibili motivazioni di certi eventi. Ad esempio, martedì 27 maggio 2003 sono usciti dati migliori delle attese sulla fiducia dei consumatori e la vendita di case, provocando un entusiasmo d'altri tempi ed una crescita dei mercati americani del 3%. È possibile che qualcuno si sia dimenticato di porre questa notizia nel contesto di una situazione generale ancora negativa dal punto di vista congiunturale e abbia erroneamente pensato che l'arrivo di una rondine abbia portato la primavera? È importante rispondere a interrogativi di tal fatta e fornire gli strumenti più generali per analizzare i meccanismi e le motivazioni che innescano scelte altrimenti inspiegabili. Ciò è utile non solo per capire come funzionano di fatto le menti degli investitori, e di loro conseguenti comportamenti, ma anche per evitare di buttare tutto ciò che non è spiegabile con l'approccio tradizionale in un grande cestino chiamato irrazionalità delle scelte finanziarie degli individui che le banche conoscono bene. Esse obbediscono, come vedremo, a una razionalità diversa, spesso funzionale ai loro profitti ma sicuramente fuorviante nei contesti economici. La finanza comportamentale non si limita ad analizzare e a cercare di capire a posteriori quello che è successo. Se così fosse si tratterebbe di una disciplina storica. Aspira anche, come un qualsiasi sapere scientifico, a proiettare i suoi principi nel futuro e, quindi, a prevedere alcune tendenze. Date le condizioni realizzatesi in passato. Ha scritto anni fa sempre Andrea Beltratti. La finanza comportamentale può inoltre aiutarci a comprendere perché i mercati azionari siano da qualche tempo in un trading range abbastanza ristretto. Gli investitori che hanno comprato nel corso del 2002 e che hanno visto il valore dei loro risparmi scendere sino all'inizio del 2003, si saranno forse rifiutati di vendere in perdita ma, a meno che non siano diventati ottimisti sul futuro, tenderanno ad approfittare. Di ogni piccolo rally di mercato per rialleggerire le posizioni spuntando un piccolo guadagno. Questo costituirebbe un ostacolo significativo alla crescita futura dei mercati, il cui andamento potrebbe essere ostacolato dalla presenza di investitori pentiti che non vidono l'ora di uscire da un asset class che ha mostrato di poter dare delusioni anche in presenza di prezzi di acquisto che sembravano interessanti. Al di là di previsioni contingenti di tale tipo, fornire informazioni basiche nel campo della finanza comportamentale è essenziale, anche per impostare l'azione di difesa nella gestione dei rapporti con la banca ma soprattutto per una gestione responsabile dei risparmi.